Presidente Lucci, da un anno e mezzo lei è al vertice del COPE, il Consorzio Punto Europa, un anno e mezzo di grande lavoro per la regione Abruzzo, tanti i progetti che avete portato avanti e che avete anche concluso. Sì, un anno molto importante perché abbiamo vinto la gara più importante, la gestione dello sportello della Commissione Europea per l'Abruzzo, abbiamo iniziato a gestire lo sportello di Invitaglia per Rest al Sud, 48 domande che hanno avuto successo per nuovi imprenditori con finanziamenti a tasso zero e contributi assolutamente importanti perché parliamo di 200 mila euro a fondo perduto e quindi risorse molto significative. Ma soprattutto abbiamo fatto un'azione di risaramento del Consorzio, di allineamento con il personale qualificato, molto qualificato, poi abbiamo una nuova sede al centro di Teramo, molto prestigiosa, che è stata inaugurata addirittura dal Capo Dipartimento delle Politiche Europee e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme al numero uno della Commissione Europea in Italia, Antonio Parenti. Oltre questo l'affiancamento alle amministrazioni locali, nuove amministrazioni che sono venute a far parte del Consorzio come il Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga, i comuni come Fano Adriano, Pietra Camela e tante altre realtà che hanno deciso di sposare il percorso del Consorzio, anche al di fuori dei confini provinciali. Voi sapete che il Consorzio ha comuni anche fuori dall'Abruzzo, quindi in Sicilia, nelle Marche, in Molise e quindi un lavoro molto importante, soprattutto la scrittura dei progetti. Significa affiancare le amministrazioni nelle idee, nell'assistenza tecnica, anche a rendi contazione, sappiamo quanto è importante. Una nuova sfida che ovviamente vede il protagonista del Consorzio.europa anche con il PNRR, sul PNRR lo stiamo facendo per tantissime amministrazioni e mi piace dire che la maggior parte dei progetti che noi stiamo candidando hanno avuto buon esito, un successo significativo. Lei è anche reduce da un viaggio a Dubai? Sì, abbiamo presentato uno slogan nuovo e un progetto significativo per l'Abruzzo, Paisaggi Culturali, Cultural Landscape. È un modo di raccontare l'Abruzzo in maniera diversa, l'abbiamo fatto con il Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga e Italia Nostra insieme alla Regione Abruzzo ed è stata un'occasione utile per lanciare il primo progetto concreto sui paesaggi culturali che è l'Ippovia del Gran Sasso, che partirà a giugno e che è stata finanziata grazie a questo progetto.